ti preparo come fai 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 fai.. fa proprio bene operazione.. operazione bistecca petta fa proprio bene perchè? hai stato a diciott'anni senza di me vuoi dire eh oh però dai sei molto bravo prendi cura di acqua basta nico ti prego stai zitto stai dicendo? Paolo? Chi è Paolo? No, lo sai perché? L'hai chiamato Zimmi dieci minuti e ora giusto si può alvendicare, vero, vero. C'è ancora tutta i bistecchi, il buono è un professore nell'olto. Perché Paolo? Si chiama Pietro, forse si è giusto. Pietro e Paolo. Pierpaolo forse. Lascialo qui sopra questo, poi non lo piglia da se che scrivo. Se lo piglia da se è proprio tre. Idiota. E' meglio che non dica frasi che possono alludere a un doppio senso. Si appunto, di sotto. Quello che cos'era? Ah, Dio buono. Un alieno, portati via la mea. No, ho visto una luce incredibile, ho detto, questo è un cellulare. Di nuovo, nuovissima generazione. Si poteva parcheggiare qui davanti. E' vero perché? Tu ho visto suanieri, perché sei c'è un suanieri. Sì sì, anche lui. Certo perché venite tutti da me. Eh, c'hanno tutti. E' vero, io me l'ho regalata Alberto. Eh ok, ma io gliel'ho detto a lui di comprarlo. Ma l'hai visione, allora quello? Nooo. No, se l'hai comprato io, se l'allumina dica me. No, lascia lontana quel pezzo, non lo tagliare, dai. È tutto troppo piccino. Hai l'attacca? No. Mettilo così. Ma come fai senza di lei? E' un disastro. Certo. 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 Certo dell'oggetto. Ma che ti ho fatto? La voleva tagliare Alessandra, si chiama Alessandra, vero? E l'ha tagliata no, l'ha tagliata io, è arrivata qui e sta trinciando. E' lei che mi ha dato le posate, se no io non la tagliavo se mi diceva io sono più schimata. E' lei che mi ha dato le posate, se no io non la tagliavo se mi diceva io sono più schimata. E' lei che mi ha dato le posate. a me. No, io non ce l'ho il tuo telefono. E' sbagliato. E' una macchina. Ganzo. Eh potrei venire a parcheggiare la macchina qui così. Taglia, taglia. Cosa fa? E' pazzo. No, è ubriato. Diverso. Le patate scusate, sono qua a raffreddarsi. Vieni qua a tagliare sta tazzo di qua. Ma devo tagliarla ancora anch'io che faccio cagare? Sì, tagliate. E vabbè dopo. Se no poi cambia stile. No, non voglio ne mette le selle.